Allora, insalata di tonno, a cui abbiamo aggiunto dello sgombro, una scatoletta a testa. Paolo ci ha messo un avogado e mezzo, e io mezzo avogado. E questo è il nostro pasto delle 4 e mezza. Comunque cerchiamo di stare dentro le 5 per poter mangiare poi domani mattina, verso le 9. Eccolo lì. Buon appetito! Allora, cenni nutrizionali dell'insalata, sicuramente tante fibre, omega 3, un sacco di proteine, perché c'è dentro il pesce, ne abbiamo aggiunto un etto in scatola e metti 50-60 grammi aranje dentro, olive verdi, che sono praticamente grassi più che altro, e fibra, e avogado che assolutamente sono grassi. è un frutto, ma non è un frutto, nel senso che non ha nessuna quantità di zucchero dentro. Quindi diciamo che questo è un pasto assolutamente low carb, va bene anche per la dieta keto, e va assolutamente bene per il gruppo A, e non solo, per la dieta del gruppo sanguigno.